ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi torniamo a parlare di cnc recentemente vi ho recensito la tutees ttc 450 con la quale mi ero trovato bene anche se entry level diciamo da hobbista però l'ho migliorata ho messo un motore del 500 watt e utilizzato delle frese di qualità superiore in questo video infatti sono in collaborazione anche con fraser perché mi hanno mandato delle frese mi hanno mandato dei libri che mi hanno aperto un mondo e mi sono reso conto effettivamente che io ancora non ero pronto per poter utilizzare bene questa cnc e tra l'altro c'è anche un corso che hanno realizzato quindi si chiama da zero a fresatore che vi dà la possibilità di capire bene tutto io sto studiando su questo corso in modo da portarvi contenuti sempre migliori e infatti la differenza si vede tra questi due loghi di harry potere questo è il primo con realizzato e questo è il secondo c'è un abisso in teoria anche se uno volesse vendere dei pezzi ottenendo questi può avere delle difficoltà ottenendo questi invece può venderli tranquillamente quindi adesso vi faccio vedere questa cnc vi faccio vedere il motore nuovo da 500 watt il montaggio ma fatto che io sia robbista è una conferma del fatto che utilizzando delle buone attrezzature migliorando la cnc anche chi non è un professionista può riuscire a ottenere dei buoni risultati diciamo anche in poco tempo perché io ho seguito una parte di questo corso ho letto questo libro ho letto anche dei manuali che mi hanno mandato in cui ci sono tutte le varie informazioni su come capire parametri effettivamente sono accorto che tante cose ne sbagliavo andava intuito ho visto qualche video online effettivamente ci sono diversi video in cui viene spiegato l'utilizzo della cnc ma non possono trattare tutti gli argomenti come un corso quindi se siete interessati io vi lascerò anche il link al corso e in modo da poter imparare sia per i professionisti che per gli hobbisti tantissime cose ora cambiamo inquadratura vi faccio vedere appunto questa cnc vi faccio vedere le frese invece vedere quello che sono riuscito a ottenere dei miei esperimenti perché ancora sono in fase di sperimentazione e sono riuscito a fare delle fresate con delle frese da un quarto di pollice quindi da sei millimetri sul legno sull'iroco e sono riuscito a ottenere dei risultati che prima per me con una cnc entry level come questa erano impensabili quindi iniziamo e innanzitutto diamo un'occhiata al motore questo è sempre della tutris da 500 watt e con questo finalmente la possibilità di utilizzare anche delle fese più grandi senza problemi perché è un motore molto più potente che mi dà la possibilità di sottoporlo a sforzi maggiori abbiamo anche questa parte in metallo che sostiene molto meglio il motore quindi evita delle vibrazioni non che prima fossero presenti ma è sempre una cnc da hobbista quindi diciamo che con un motore di questo tipo è un'evoluzione è una miglioria e vi farò vedere anche il montaggio dello stesso che è semplicissimo perché prevede lo smontaggio del mandrino precedente l'applicazione di un pezzo che serve a sostenere questa parte metallica e poi ovviamente bisogna semplicemente abitare il motore collegando il cablaggio che viene comunque collegato poi ad un alimentatore che ci permette di alimentarlo mantenendo comunque l'alimentazione originale della cnc abbiamo un alimentatore a parte per questo motore perché potente richiede quindi un'alimentazione specifica quindi la fase di montaggio molto semplice veloce ma con un risultato che stravolge completamente la vostra macchina questi infatti sono i pezzi che ho ottenuto allora questo lo ricorderete il primo che ho realizzato e alla fine della realizzazione c'era tutta la superficie rovinata e ho dovuto pulirlo con un poco di carta vetrata ma guardate sono ancora presenti alcune sfilacciature quindi nonostante questa questo logo di harry potter mi piaccia sia effettivamente di mio credimento mi sono reso conto che questo risultato poteva essere migliorato senza dubbio con delle prese di buona qualità questo infatti è nuovo logo guardate che differenza e considerate che ho utilizzato una fresa che va bene sia per le incisioni 2d che 3d che avesse utilizzato una fresa candela di piccola dimensione anche la base sarebbe venuta molto meglio ma comunque sono comunque soddisfatto perché io ancora sto studiando per poter imparare bene i parametri e nonostante sia ancora agli inizi grazie al corso da questi manuali sono riuscito ad avere dei miglioramenti incredibili allora queste invece sono le prese della fraser della linea boss biever che hanno pure un rivestimento diamantato sono particolari guardate la qualità vi faccio una zoomata che sembrano quasi dei gioielli queste prese sono davvero ottime con dei taglienti affilatissimi che vanno bene anche per lobbista perché sono delle prese fatte bene durano molto di più di quelle standard ragazzi io dietro a questi evitatori o una marea di scatoline di prese e presettine che alla fine si sono rotte più della metà insomma non mi hanno mai soddisfatto e attribuivo a una mia colpa il risultato che non mi piaceva perché questo risultato questa parte rotta pensavo di sbagliare qualcosa effettivamente non conoscendo i parametri sbagliavo qualcosa ma sbagliamo anche nell'utilizzo della fresa perché una fresa che non è di buona qualità non ci dà lo stesso risultato di una fresa di buona qualità e tra l'altro acquistando queste prese dopo che le avete fatto l'ordine potrete entrare nel vostro account e scaricare tutti i parametri per poterlo utilizzare nel migliore dei modi anche se poi in base al tipo di macchina dovete sempre gestire il tutto in base alle prestazioni che avete per esempio questa macchina dei movimenti limitati da 800 mm al minuto invece le macchine professionali arrivano fino a 3 4 metri al minuto quindi capite che c'è delle differenze anche per quanto riguarda la velocità di rotazione del mandrino con questo nonostante la potenza maggiore abbiamo 12 mila giri invece alcune macchine arrivano 18 mila insomma sono velocità differenti in quel caso grazie anche al manuale al corso riuscito a capire come regolare i parametri in proporzione in modo da ottenere super giù i stessi risultati ovviamente migliora la macchina migliori saranno i risultati ma guardate io ho ottenuto delle fresate da 6 mm sull'irogo dopo aver fatto diversi esperimenti anche su altri materiali e questa volta dopo aver fatto diverse prove anche nella parte posteriore ci sono degli esperimenti guardate che differenza fra queste che sono le ultime e queste che sono le prime dove ancora non conoscevo bene i parametri non avevo studiato bene e ho avuto un'ottima differenza cioè queste fresate mi piacciono mentre queste non mi piacciono è un lavoro finito con questo risultato anche se ancora migliorabile perché ripeto io sono un robista che sta studiando mi piacciono ma posso ottenere ancora di più e tutto questo grazie sia al motorino che ho sostituito che a queste prese che sono di buona qualità ovviamente anche ai manuali e al corso che sosseguendo con piacere che vi lascerò il link per poterlo vedere corso viene trattato viene spiegato la differenza fra un tipo di tagliente un altro su quale materiale va utilizzato perché ottenere un tipo di finitura con una presa oppure con un'altra oppure per esempio l'utilizzo della presa che sia positiva né negativa che ci dà la possibilità in base ai materiali sono rivestiti o meno di non rovinare la superficie sono piccolezze che vi danno la possibilità di avere un pezzo finito bello oppure un pezzo finito brutto e sicuramente un pezzo finito brutto è un pezzo che vanifica tutto il nostro lavoro inoltre più di una volta con le frese economiche mi sono ritrovato ad avere la fresa rotta a metà del lavoro costringendomi a buttare possibilmente l'unico pezzo che avevo di quel materiale e quindi dover riacquistare sia il materiale che la fresa ma soprattutto dopo avere perso tantissimo tempo nella produzione del pezzo stesso che poi alla fine andava buttato questa per esempio è una fresa sia per fare delle scritte delle incisioni in generale perché appuntita con un angolo di 60 gradi con tre taglienti anche questa con il rivestimento diamantato che da una buonissima definizione al lavoro ma soprattutto che queste prese della boss vivere hanno anche una durata maggiore superiore anche di 68 volte rispetto alle frese comuni ma immaginate rispetto delle frese economiche per esempio come questa che hanno una durata molto limitata perché anche se non si rompono però perdono la parte affilata non sono centrate perfettamente quindi il risultato non sarà mai al cento per cento per realizzare il logo di harry potter quindi la seconda versione utilizzato lo stesso file della prima versione ma in questo caso con questa fresa che non è a candela quindi abbiamo questa fresa che va bene sia per le incisioni 2d che per le incisioni 3d solo che ovviamente essendo leggermente conica anche le incisioni avranno questo angolo e non essendo a candela ovviamente sulla base avremmo anche qualche piccola arricatura come questa ovviamente la presa non è adatta ma volevo farvi vedere comunque la differenza fa una fresa di buona qualità è una presa non di buona qualità la differenza è decisamente abissale se avessi utilizzato una piccola presa candela sicuramente risultato sarebbe stato ancora meglio ma così già sono più che soddisfatto e sono sicuro che continuando a studiare a migliorare tutte le conoscenze che riguardano la cnc in breve tempo otterrò un risultato eccezionale da questa parte invece come vedete ho utilizzato anche la piccola fresa che ci permette di fare gli arrotondamenti sui bordi quindi come se fosse un rifilatore che ancora montata e che a questo profilo che permette di ottenere quindi questa parte arrotondata in questo caso utilizzato invece la fresa con l'angolo di 60 gradi che mi ha dato la possibilità di ottenere questa incisione che secondo me è praticamente quasi perfetta anche se ripeto ancora sto studiando quindi devo migliorare ulteriormente ma questi risultati con una cnc economica ragazzi sono praticamente impossibile se non conoscete bene tutto quello che c'è da conoscere ma devo ovviamente ancora studiare per bene migliorare ulteriormente dopodiché dirò quali sono tutti i suoi limiti quali sono tutti i suoi vantaggi cosa riesce a fare cosa non riesce a fare soprattutto adesso che ho cambiato il motore quindi mi aspetto delle prestazioni molto migliori e già hanno dato veramente una grande differenza molto più stabile molto più potente e associato a queste prese e alle conoscenze che prenderò grazie ai corsi e manuali quali risultati si possono ottenere e allora ragazzi questo quindi è il motivo per cui io fino ad ora non ho pubblicato altri video sulla cnc perché ho deciso prima di tutto di migliorare la stessa quindi mettere un motore migliore di migliorare me stesso perché seguendo il corso ho capito tante cose che non sapevo e di utilizzare sia dei supporti adatti quindi un materiale che si può fresare con quel tipo di fresa capire perché il legno si sfilacciava quando utilizzare delle frese che spingono verso giù quando delle frese che tirano verso su tutte le varie fibre insomma dei risultati che prima non mi piacevano non venivano bene e che adesso invece mi piacciono sono venuti bene questo per esempio si potrebbe vendere questo non credo proprio che si possa vendere va bene se volete farlo per voi tenerlo in casa poi si crea una cultura personale che ci dà la possibilità di capire intuitivamente quali siano i parametri adatti facendo anche delle proporzioni matematiche e su questi manualetti su questo corso eccetera trovate tutto quello che vi serve per riuscire appunto essere autonomi mettervi davanti alla macchina a vedere il pezzo ovviamente fare qualche prova perché non saprete mai come reagisce poi la fresa sul legno che state lavorando soprattutto se un'essenza nuova che non avete mai lavorato fate delle prove fino a quando capite che il pezzo vi soddisfa la fresatura viene bene allora avete trovato i parametri corretti ma già dovete conoscere quali sono le varie impostazioni infatti per esempio per la tornato io non vi sto parlando di questa presa perché metterla su un rifilatore su una fresa spianare un pezzo di legno ragazzi sanno farlo tutti io invece sto studiando perché voglio parlarvene bene voglio farvi vedere tutte le varie applicazioni voglio sapervene parlare metterla sul router spingere a fare una spianatura lo trovo sì bello da vedere ma poco utile per chi vuole imparare quindi questa la rimandiamo un prossimo video come rimandiamo ai prossimi video tutte le varie lavorazioni che potrò presentarvi dopo che avrò finito di darmi una cultura personale e capire bene come si utilizza quindi vi invito anche ad approfondire vi lascerò il link sia dei corsi delle prese della cmc del motore e tutto ciò che io sto utilizzando e ci vedremo nei prossimi video nei quali poi con una cultura in più riuscirò effettivamente a portarvi dei contenuti migliori prima mi illudevo di sapere adesso so che non sapevo ma conosco qualcosa in più quindi ci vediamo nei prossimi video ricordatevi di iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per attivare notifiche mettere mi piace questo video se vi è piaciuto e ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto